Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video scusate perché ho il singhiozzo quindi alcune volte sentite fare così allora è l'una di notte e io sto ancora sveglio si è l'una di notte perché quando io avevo fatto l'ultimo video dei calciatori chi non è andato a vederlo deve andare subito a vederlo quindi vedetelo qua sotto il video ragazzi scusate se parlo così ma il singhiozzo ragazzi io bere i sette sorsi vabbò il cane sta bene col video dei calciatori non l'ho finito vi dicevo che poi lo rifacevo l'ho fatto ma poi non l'ho caricato quindi non si è caricato quindi ma dovrò dire i calciatori qua e tipo poi faremo una bellissima live sebbene si faremo una bella live questo è l'album trofeo della serie a team poi gli albumini che ho attaccato anche le doppie non so perché dell'Atalanta ho l'oro ve lo faccio vedere veloce 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 Scusate se non parlo, solo che sono in punto a farvi vedere l'album e le figurine che ho. Voi ve lo vedete Sanremo ragazzi, a me non mi piace tanto, non me lo vedo, solo che per alcuni cantanti me lo vedo ma non mi piace per niente. Pochissimo quando ci sono alcuni che vanno famosi o che mi piacciono. Il boom! Amtaro! Mi sa che sto video voi lo vedrete domani mattina, quindi lo vedrete al 7 perché ora è l'una di notte e chi lo va da l'una di notte quindi mi sa che il 7 marzo lo vedrete sto video. L'album stavolta però non è cartonato, cioè è normale. Vabbò nella live continueremo perché mo' è troppo tardi, anzi la live la farò, cioè sì, la live la farò, scusate col signozzo, la farò mo'. Quindi uno ne farò senza spettatori, uno la farò con domani, ciao! 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 Ciao!